Il mio saluto oggi qui è legato molto alla robotica perché è il mio settore elettivo ma è anche un'idea di passare ogni settimana in una scuola diversa e quindi ogni settimana che crescerò a Pisa cercherò ogni volta di andare in una scuola da visitarle il quarto numero possibile, c'è anche la più grande varietà possibile quindi voglio vedere tutte le scuole, voglio incontrare ragazze, ragazze, insegnanti sono state in Calabria anche queste settimane e quindi cerco sempre di mantenere l'attività di governo al viaggio nella scuola italiana e sempre ho trovato lo stesso entusiasmo quindi vi ringrazio per tutti quelli che hanno creduto in questa manifestazione relativa alla robotica io credo che la robotica sia un grande strumento educativo e voglio ringraziare i ragazzi che credono davvero in queste competizioni sono le malestre per sviluppare la capacità di stare in gruppo per stare insieme, per conoscere un po' l'Italia, conoscere colleghi di altre scuole e quindi competere facendo qualcosa che è basato sull'ingegno quindi io vi ringrazio tanto ragazzi, siete la parte migliore di questa scuola di tutte le scuole italiane e vi auguro di avere successo anche grazie alla robotica grazie